Antonio, domenica mattina ci sarà un altro giro nel Centro Storico? Sì, è il sedicesimo giro che facciamo con Gianluca Facente, faremo un giro come al solito nel Centro Storico e sarà diverso dai primi 15. Questa volta ci dedicheremo specificamente a delle maschere, dei simboli che sono nel Centro Storico. Quindi avete già un'idea di che cosa proporre a chi vorrà venire in giro per il Centro Storico? Sì, abbiamo voluto cambiare perché solitamente facciamo vedere gli edifici che insistono nel Centro Storico o i portali o altri simboli. Questa volta invece abbiamo voluto specificamente dedicarci alle maschere, ai simboli che sono nel Centro Storico perché sono poco conosciuti, non c'è letteratura in questo senso e poi perché magari sono collocati in una certa altezza e quindi non facilmente visibili da chi ci transita. In queste passeggiate nel Centro Storico c'è sempre tanta gente che viene, ma molti arrivano da fuori. Sì, questo è quello che ci fa più piacere perché oltre ai nostri amici crotonesi ci raggiungono parecchi amici della provincia eppure fuori provincia come succede spesso, addirittura come dicevo l'altra volta, pure da Cosenza e da San Giovanni in Fiori. Questo non ci fa piacere perché cerchiamo di esternare il bello della nostra città. Grazie. Grazie.